Noi siamo fortunati qua sul class 40 abbiamo una bella cucina, un fornello possiamo fare da mangiare seriamente adesso invece abbiamo finito l'acqua quindi stiamo ricadendo sulla scelta classica degli uffilizzati che le prime volte sono anche buoni poi dopo un po' di volte che uno li mangia ci fa l'abitudine e si rende conto di quanto fanno schifo alla fine